Buongiorno a tutti. C'è una piccola modifica nel programma perché come vedete non è presente il nostro Presidente, l'Avvocato Trevisi, che si scusa ma c'è una riunione regionale per cui ha delegato me per la presentazione. Ringrazio tutti per essere intervenuti, in particolare i nostri relatori. Vorrei spiegare il perché di questo evento che è un po' diverso dai nostri anche se siamo qui alla Camera di Commercio. Già da alcuni mesi è iniziato un, possiamo definirlo tavolo, comunque una serie di incontri tra il Consiglio dell'Ordine e gli assessorati delle politiche sociali dei vari comuni della provincia di Modena. Questi incontri hanno diversi obiettivi. Uno di questi appunto era questo evento formativo indirizzato non solo agli avvocati, ma a tutti gli operatori che si occupano appunto di politiche sociali. Vedete che non ci siamo solo noi. Altri obiettivi ovviamente sono quelli di cercare di individuare quelle criticità che ci vedono tutti vicini quando parliamo anche se impropriamente di diritto di famiglia per vedere di riuscire a dare un servizio migliore ai nostri clienti. Per cui questa era un'idea che era nata già diversi anni fa quando con l'assessorato del Comune di Modena avevamo fatto, io non li avevo fatti, ma c'è qui presente chi era stato artefice di quegli incontri per i mediatori familiari. Poi la collaborazione ha avuto un attimo di pausa, l'abbiamo ripresa diversi mesi fa per cui stiamo continuando in questo percorso. Per cui oggi stiamo coronando il primo degli obiettivi che ci eravamo dati con dei relatori che credo non abbiano assolutamente bisogno di presentazioni perché chi fa diritto di famiglia li conosce tutti. Dal dottor Fadiga, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna, al nostro presidente di sezione, la dottoressa Ornella Dorazzi, lei proprio la conosciamo tutti, e il dottor Massimo Camiolo, psicologo e già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, nonché CTU del Tribunale di Milano, e tutta un'altra serie di incarichi. La Paola, l'avvocato Panini, la conoscete tutti per cui non ha bisogno neppure lei di presentazioni. Ringrazio ancora tutti, cedo la parola all'assessore che farà una piccola presentazione. Buongiorno a tutti e grazie di aver partecipato, di essere qui, di partecipare alla giornata di oggi, perché partendo dal titolo, le famiglie cambiano, le istituzioni cambiano, è vero, però di solito con delle tempistiche molto diverse. Le istituzioni ci mettono un po' di tempo a cambiare. Però il percorso che è frutto, anche che ha determinato anche l'incontro di oggi, invece, è un segno di cambiamento. È un segno di cambiamento che è partito diversi anni fa. Da un lato all'interno dei servizi sociali dei comuni di questa provincia. Ci siamo confrontati, soprattutto rispetto ai centri per le famiglie, alla mediazione familiare. C'è come poter essere sempre più al fianco dei genitori, soprattutto in momenti come quelli della separazione, per poter aiutarli a svolgere le loro capacità genitoriali. Tante volte non si è più moglie e marito, però si rimane mamma e papà. Con momenti di difficoltà. Perché un po' di questi elementi vengono, le rischie che vengono anche usate con dinamiche diverse rispetto alle separazioni. Con anche delle famiglie allargate o altri genitori di riferimento che in questi momenti hanno bisogno di essere aiutati in una lettura delle cose che succedono, anche rispetto alle loro relazioni intrafamiliari. E per questo la Regione ha dato un'indicazione molto chiara che proprio nei centri per le famiglie dell'Emilia-Romagna viene svolta questa funzione. A Modena città noi abbiamo anche una convenzione con un soggetto privato per svolgere questa attività di mediazione. e nell'anno 2013, vi do solo un dato, nel Comune di Modena sono stati 520 i percorsi di mediazione familiare. Non sono pochi. Che vuol dire una media di 10-12 incontri. Sono percorsi, non sono incontri. E allora un altro elemento di innovazione è stato mettere insieme il lavoro di questi centri per le famiglie e costituire a livello provinciale un organismo tecnico per confrontarsi rispetto ai vari casi, alle varie dinamiche, proprio per essere maggiormente, con una maggiore capacità al fianco di questi genitori. Dall'altro è da diversi anni, come ha detto l'Avvocato, che abbiamo una collaborazione sia con l'Ordine degli Avvocati e anche con il Tribunale di Modena. Un buon rapporto. E anche questo non è scontato. Che ha visto anche nell'anno 2008-2009 fare un corso di formazione con diverse figure professionali. Perché è importante anche dare gli stessi messaggi ai genitori. Come abbiamo visto anche nell'incontro fatto all'Istituto Fermi. Non è facile tante volte interloquire tra assistente sociale e avvocato. E sicuramente quando si dialoga solo con lettere ufficiali, protocollate che arrivano, è meno facile che tante volte fare una telefonata o essersi conosciuti prima. Dall'altro rispetto alla famiglia, al poter dare delle stesse indicazioni. Vuol dire aiutarli a non andare in confusione. Io mi ricordo il caso di un bambino che era seguito da 18 professionisti. Allora, è sicuramente un caso limite. Però sono troppi. Sono troppi per il bambino, sono troppi per la famiglia, sono troppi credo anche per gli stessi operatori. Ecco. Allora, su questo abbiamo bisogno anche di conoscerci meglio, di conoscere le procedure, i vincoli, le modalità di lavoro che hanno gli uni gli altri per poter collaborare meglio. Perché le figure professionali sono magistrati, avvocati, mediatori familiari, psicologi, operatori sociali, ce n'è anche un'altra. Gli enti locali si sono avvalsi anche dalla figura, negli ultimi anni, degli esperti giuridici che aiutano l'area minori ma anche l'area adulti per svolgere tutto un insieme di attività. Allora, da un lato ognuna di queste professioni, di queste competenze ha dei vincoli. Dei vincoli di ontologici, dei vincoli di formazione, dei vincoli istituzionali anche. Il fare un percorso insieme, il prendersi anche le misure, credo che possa aiutare a lavorare tutti meglio e dall'altro essere maggiormente di aiuto alle famiglie. Per cui anche di questo corso ringrazio chi lo ha organizzato, ma anche la disponibilità dell'ordine degli avvocati e anche l'avere concesso un credito. Questo aiuta molto anche la partecipazione. Ecco, per tutte le figure professionali. Ma ringrazio anche i relatori che ci sono proprio perché dall'alto della loro esperienza ci possono aiutare a un maggiore cambiamento per essere maggiormente al fianco di queste famiglie che sono cambiate radicalmente negli ultimi anni. Io chiedo scusa ma tra circa un'ora devo andare perché ci sono altre attività da fare rispetto alle ASP e rispetto ad altre cose. Grazie e buon lavoro. Passo la parola al dottor Fadiga. Il suo intervento sarà a 360 gradi anche se abbiamo dato un titolo ma vista la sua figura dirà tutto quello che ritiene. Il titolo è Recenti mutamenti normativi e ripercussioni sugli interventi di protezione e tutela però certamente non ci riserverà dei commenti anche diversi. Grazie. Grazie. Prometto di non abusare di un titolo che è ancora più ampio come angolatura. Vorrei dire anzitutto grazie per avermi invitato oggi. Dire che mi felicito moltissimo con voi per quanto sia, diciamo, di mia competenza per questa iniziativa che vede insieme il Consiglio dell'Ordine Forense e l'Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Modena. È un'iniziativa di grande importanza. Io credo che costruire un ponte tra il sapere giuridico e il sapere psicosociale, diciamo, quello relativo alle scienze dell'età evolutiva, sia un'operazione di grandissimo spessore culturale e di grandissima importanza. È un ponte sul quale, come Massimo Camiolo certamente sa, sul quale abbiamo combattuto molto, molto noi giudici onorali e togati nei tribunali per i minorenni quando la mia età mi consentiva di essere in un tribunale per i minorenni. Perché manca nella cultura giuridica italiana tradizionale la capacità di rapportarsi ai temi psicosociali, essendo prevalentemente fondata su aspetti di carattere economico. E manca nella cultura dei servizi la capacità di maneggiare con sufficiente disinvoltura lo strumento giuridico. Questa frase non vi suona riduttiva, signori e signore avvocati. Parlo di strumento giuridico in quanto nessuno pensa che un operatore sociale debba arrivare a conoscenze del diritto specialistiche o particolarmente, diciamo, approfondite. È necessario però che abbia la capacità di individuare lo strumento giuridico che può essere utilizzato e che abbia la capacità di dialogare con l'altra cultura. È proprio questo che è mancato, è proprio questo che è stato talvolta molto faticosamente realizzato, la capacità di interscambio tra le due culture che per moltissimo tempo e ancora adesso per molte zone, non qui, questa è la ragione della mia felicitazione, non sono capaci di parlarsi a vicenda. Non esiste un linguaggio comune, un esperanto diciamo così, non esiste la capacità da un lato di parlare sia pure a livello basico, la lingua dell'altro e viceversa. Chiudo dicendo appunto che questa iniziativa vostra è un'iniziativa di grande spessore culturale, di grande importanza, spero che si diffonda. Chiedo il permesso per un minuto di commemorare quello che è stato il mio maestro e che è scomparso qui a Modena l'unico scorso. Italo Cividale, ne parlo con un po' di promozione, è stato presidente del Tribunale Minoreno di Bologna per molti anni, è stato uno tra i padri della giustizia minorile. Quando a me dicono che sono un padre della giustizia minorile rispondo no, non è vero, tutto al più sono uno zio e quindi la generazione dei nostri fratelli maggiori è quella che l'ha fondata. Noi i fratelli minori non sempre siamo stati capaci di proseguire nell'opera. Ecco, a questo punto è chiaro che io sono in pieno argomento della mia relazione. Recenti mutamenti normativi e ripercussioni sugli interventi di protezione e tutela. In questi ultimi due anni, come ha sottolineato anche il Presidente della Corte di Cassazione sul discorso inaugurale, e vi invito che non l'avesse ancora fatto a leggere la parte dedicata alla giustizia minorile perché è veramente significativa, ecco in questi ultimi anni si sono verificati dei mutamenti normativi di tale importanza che non erano nemmeno immaginabili soltanto cinque anni or soli. È evidente che hanno delle ripercussioni in tanti settori. Quello di cui devo accennare è il settore degli interventi di protezione e di tutela. Direi che in questo settore quei mutamenti hanno avuto e avranno ancora ripercussioni profonde. E allora io ricordo solamente due delle norme principali entrate in vigore ultimamente, la 219 e il suo decreto attuativo 154 del 2013 che è in vigore, se non mi sbaglio, da una settimana. Ovviamente il periodo di vigenza di questa norma è così breve che è un discorso che non può ancora essere verificato né sulla giurisprudenza di merito né tantomeno sulla cura di legittimità. Però alcuni punti possono essere e devono essere oggetto di riflessione. Ecco questa normativa continua a mio parere degli elementi di positività molto rilevanti che per primo è giusto sottolineare. Finalmente si parla di diritti del figlio. L'articolo 315b si è molto chiaro in proposito. Parla anche dei doveri, come è giusto, perché là dove si riconosce un diritto a una persona lo si riconosce anche ad un'altra e quindi chi ha avuto il diritto ha anche un dovere verso l'altra. È un concetto sul quale come garante mi fermo spesso perché il discorso dei diritti del minore fa un po' impressione delle voci. Possono fare quello che vogliono? No. Semplicemente perché la libertà dell'uno è un discorso molto vecchio, finisce e comincia la libertà dell'altro. Allora i diritti del figlio verso i genitori sono un'innovazione molto profonda che è destinata a incidere sulla cultura giuridica ma non solo su quella, anche sulla pedagogia sia nella famiglia che all'esterno della famiglia. È sicuramente una delle innovazioni che avrà forte ripercussione nella protezione e nella tutela e che finalmente adegua o meglio spiegherò perché cerca di adeguare la nostra normativa su questo punto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Ecco, devo spiegare perché cerca di adeguare. Il titolo della Convenzione non dice Convenzione sui diritti del figlio, no? Dice Convenzione sui diritti del fanciullo. Fanciullo è parola desueta, diciamo del bambino per intenderci, comprendendo anche forse un po' oltraggiosamente nel termine bambino la categoria degli adolescenti, l'italiano non ha una parola apposita, non parla di diritti del figlio, parla di diritti del fanciullo, del bambino. Perché è così? Perché prima il bambino è persona, poi è figlio. Non è figlio subito. Quando viene al mondo, e i giuristi mi capiscono immediatamente, non è ancora figlio, ma ha già dei diritti. È una sottolineatura che credo sia importante e va da parla. Perché la Convenzione delle Nazioni Unite di questo si occupa, dei diritti della persona minore di età. Non intanto perché figlio, ma perché persona. È un'angolatura molto, molto più importante, non lo so. Per me sì, comunque sì, è un'angolatura molto più specifica, o anche molto più larga, come volete voi, rispetto a quelle dei diritti del figlio, che presuppone uno status. Ma noi, parlando tra adulti, non identifichiamo l'interlocutore per lo status. Io non dico tu sei mio cognato, no, tu sei una persona. Né io mi sento, parlando con mio cognato, cognato di lui. Ad esempio, non è felicissimo, ma credo che renda l'idea. Prima si è persona e poi si ha uno status. lo stesso vale tra marito e moglie. Prima si è persona, poi si è conioce. Bene, allora, i diritti del figlio è una grande conquista, non è ancora la conquista definitiva. Là si dovrà per forza arrivare. Per una serie di ragioni. Perché i diritti del minore passano attraverso il riconoscimento del suo ruolo specifico, che va quindi tutelato come tale. Un esempio, forse non del tutto appropriato, è quello del figlio della donna che non consente di essere nominata, che non è figlio, fin tanto che non viene pronunciata nei suoi confronti una sentenza di adozione, o fin tanto che non viene riconosciuta. Ecco, cosa succede in questo periodo? Succede che c'è bisogno di qualcuno che lo rappresenti. Non può esistere nel nostro ordinamento una persona che non abbia capacità di agire o che non sia rappresentata legalmente. E dunque, capisco che posso essere considerato un visionario, ma non troppo, dal momento della nascita, se non viene dichiarato come figlio naturale o come figlio nato nel matrimonio naturale non si usa più, ma comunque come figlio da qualcuno, questo neonato dovrà avere un rappresentante legale. Ce l'ha, certo che ce l'ha, attualmente ce l'ha, ed è, per legge, in base all'antica normativa del codice civile, il responsabile della struttura dove è nato. Non ce ne sono tutti. Il responsabile che però non se ne rende ben conto, perché l'abitudine e la cultura è quella che c'è la mamma, c'è il bambino. Non c'è ancora la mamma, non c'è ancora il figlio. Bene, faccio un passo avanti, sempre sulle positività grandi di questa normativa, e vengo all'altra rivoluzionaria, che è quella, ovviamente, della responsabilità genitoriale, ma prima mi piace citare quella che è il diritto all'ascolto, il diritto ad esprimere la propria opinione. Questo è un imperativo che ci viene dalla Convenzione delle Nazioni Unite e che la nostra legge ha finalmente recepito, superando le esistenze che sono note a tutti gli operatori giuridici. Ma non si può, non c'è tempo, non siamo capaci, facciamolo fare a un consulente. Non è solo nel mondo del diritto che c'è il diritto all'ascolto, nel mondo giudiziario, nel mondo processuale. È in famiglia, comincia da lì, è nella scuola. È nei rapporti tra amministrazione pubblica e fascia delle persone di minore età. Quindi vedete com'è ampio. E poi il diritto all'ascolto non significa semplicemente fammi sapere, no? Significa fornire gli elementi per decidere, per esprimere un'opinione, scusatemi, ascoltare questa opinione, rappresentando prima le conseguenze che ci possono essere a seconda di una preferenza o d'altra nella scelta. Questo è il problema. Questi sono gli elementi per fare delle scelte. Alla scelta A corrisponde l'effetto B, all'effetto C. L'effetto C può derivare dalla scelta D. Ecco, allora il diritto all'ascolto è destinato ad incidere sulla pedagogia, direttamente, anche in famiglia. E tra giuristi ed operatori a questo punto è chiaro che ci si può domandare bene, ma se non sa ancora parlare. E allora torniamo al discorso di prima, del legale rappresentante. Chi sono normalmente fisiologicamente? Chiaro, sono i genitori. Sempre, momento, guardate solo come il codice civile del 1940 è cauto in materia di patrimonio del minoregno. Non si può muovere niente senza l'autorizzazione del giudice tutelare, per carità. Io ricordo quando facevo un numero incommensurabile di anni fa, il pretore a Sassuolo, e queste ragazzine volevano aprire un negozio di parrucchiera. Beh, perché non lo fate? Occorre l'autorizzazione del pretore. Ed è una cautela importantissima, perché in quegli anni lontani capitava nelle campagne che un bambino avesse ereditato qualche cosa dal nonno o da qualche parente e che questo qualche cosa fosse, insomma, una risorsa futura. Tutto fermo, tutto bloccato. Bene, una cautela del genere giustificatissima, perché ci poteva essere il papà che se la beveva all'osteria o che se la giocava ai dadi, non c'è mai stata né nel codice, né nella nostra cultura giuridica, né nel nostro costume, per quanto riguarda i conflitti che non sono di carattere patrimoniale. Se voi andate a cercare bene nei codici, vedete sì, l'accordo, il curatore, il conflitto di interessi, ma è un piccolo spiraglio al di là di quelli che sono i conflitti di carattere patrimoniale. Beh, e allora su questo punto il discorso torna al problema dell'ascolto, ma dal problema dell'ascolto va al problema della rappresentanza legale. Chi è in generale che deve rappresentare legalmente il minore se i genitori sono in conflitto con lui? Va bene, c'è la scelta dei giudici tutelari, niente da dire, ma in generale, sul piano generale. Io credo che una grossa responsabilità anche pre-giuridica spetta i servizi, ce ne sono dubbi, i quali dovrebbero avere, secondo la mia visione visionaria, se mi passate l'espressione, una legittimazione ad agire diretta davanti al tribunale. E questo farebbe sgombrare il campo da una quantità di problemi. Certo che c'è la terzietà, non l'ho fatto io d'ufficio, o me l'ha chiesto il pubblico ministero, o me l'ha chiesto il genitore, o me l'ha chiesto il servizio. E il tribunale dirà sì o no, a seconda dei casi, e chi ha chiesto potrà impugnare, e potrà impugnare anche chi non ha chiesto, ma è rimasto soccombetto. Non vedrò certamente una normativa del genere attuata. Mi piacerebbe soltanto che un movimento di interesse, a livello dottrinale, verso una legittimazione attiva dei servizi sociali, cominciasse a prendere piedi. Vediamo un altro aspetto importante, un'altra positività. Della responsabilità genitoriale, l'ho detto, era un tema ormai più che maturo. Qualcuno ha detto che bisognava parlare di responsabilità genitoriali, al plurale, in modo che una parte potesse essere data, e l'altra no, e ci potesse distinguere tra le varie situazioni. Accontentiamoci. Va bene già così. Certo, è difficile, se ricordi anche voi, tutte le volte che scappa la parola potestà, dire no, è responsabilità del italiano. Speriamo di abituarci, perché i nomi delle volte sono più che una semplice etichetta. Vediamo un altro aspetto molto importante e positivo, ma con alcuni punti interrogativi. L'articolo 74 del Codice Civile e 258 dello stesso codice, che riguarda la parentela. E allora che cosa succede? La parentela, essendo tutti figli, sia quelli nati nel matrimonio, o quelli nati fuori dal matrimonio, e ricordo tra parentesi che quelli nati fuori dal matrimonio in Emilia Romagna sono il 30%, non sono a Modena, ma credo che siano probabilmente di più, ecco, in queste situazioni, il figlio instaura legame di parentela con tutti. Grosso passo avanti, perché non si sapeva, ma era probabilmente così, non si diventava nonni dei figli naturali, dei propri figli. C'è chi sostiene che non è vero, però insomma il dubbio c'era. E allora parentela. Solo che il nuovo articolo 74 fa forse un passo di troppo, perché dice la parentela è vincolo tra persone che discendono da nostri sostituti, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di cuore di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Adottivo, non c'era probabilmente bisogno di dirlo, ma dicendolo viene fuori un problema. Adottivo come? Abbiamo due forme di adottione in età. L'adozione che si chiamava piena o legittimante, adesso questo aggettivo non è più pertinente, ma chiamiamola adottione piena, per intenderci, e l'adozione in casi particolari. Adottione in casi particolari che era nata come una valvola di sicurezza, pentola a pressione, a un certo punto, se la pressione è eccessiva, la valvola fischia. Adesso non è più così. Adesso per una serie di vicende che sarebbe lungo ricordare, l'adozione in casi particolari rappresenta un terzo delle adottioni. Allora quando un fenomeno è rappresentato nella misura di un terzo da una certa categoria, è chiaro che quello non è più un'eccezione, non è più un caso particolare. Che cos'è di particolare l'adozione in casi particolari? Che è molto flessibile, è molto flessibile, non richiede requisiti particolarissimi e specifici, né di età, né di vincolo matrimoniale, né di altro genere. E l'adozione piena invece, è un meccanismo molto rigoroso. Ci sono due binari paralleli che non è detto che si incroccino. Uno è quello della ricerca e dichiarazione dei casi di abbandono. Ricerca è una parola forse non esatta, comunque sia dell'accertamento delle situazioni di abbandono ed è un binario autonomo. Un altro binario che forse si può incrociare è quello delle varie disponibilità all'adozione, che non sono nominative, sono generiche. Sono generiche. E allora, quando sul binario dell'accertamento dell'abbandono la giurisdizione dice con sentenza definitiva sì, è adottabile perché non ha famiglia, perché è abbandonato, allora si verifica l'incrocio con chi? con quella tra le domande che è più idonea a quel bambino. Cioè, gli prendiamo dal magazzino quel vestito che gli va meglio. È un'ottica dura, eh? Quella dell'adozione in casi particolari lo esce. Va bene, lasciamo stare la lettera A? No, la A, teniamola. Lasciamo stare la lettera B che è l'adozione del figlio del coniuge. Quella è chiaramente specifica e ha una casistica particolare. Ma prendiamo la lettera C e la lettera D la vecchia lettera C adesso è sdoppiata. Beh, voi sapete benissimo i contrasti giurisconiziali su questo punto. Deve essere dichiarato adottabile, no, non importa, tutte queste cose. In altre parole, quella è stata la via per modificare dall'interno in modo sensibile il fenomeno adottivo del nostro ordinamento che adesso ha due, diciamo, diversi sistemi. Una volta che si dice che gli effetti di questi due diversi sistemi sono identici perché vanno alla parentela comunque, beh, uno dice quale scegliamo dei due? È chiaro che continueranno le dichiarazioni di autabilità, ma è chiaro anche che si verifica un rischio, ripercussione di pericolo, la ricerca privata del bambino più simpatico, più bello, che piace di più. Ricerca privata che è possibile perché non ci sono mezzi per impedirla o comunque per impedirla totalmente. Ricerca privata che può preludere preludere all'instaurazione di un rapporto affettivo sul quale puoi giustificare e caso particolare non si può allontanare se legati. La Cassazione ultimamente con una sentenza si può dire formalistica, una sentenza della Cassazione non credo, devono essere, devono essere, con una sentenza che però secondo me non rispecchia non rispecchia il problema umano che c'è sotto, ha detto quando nel corso di un affidamento familiare il bambino affidato diventa adottabile, si toglie e si dà un'altra coppia per l'adozione piena. Beh, secondo me questo va contro un diritto del bambino, un diritto alla continuità affettiva è evidente, gli fate male se lo portate via, fate un orfano e dice sì, ma lì non potrebbe stare, non c'è scritto che non potrebbe stare, c'è scritto invece che per evitare che questi casi si verifichino o comunque per ridurli occorre lavorare in un certo senso, occorre fare in modo che se c'è un affidamento familiare sia fatto con certi criteri, occorre fare in modo che se c'è un affidamento familiare non sia un affibbiamento familiare, questo è il bambino avvengatevi sia voi che i genitori d'origine, no, questo non è affidamento familiare, occorre lavorarci duramente solo, perché l'affidamento familiare è un intervento che richiede una notevole tecnica e come certi interventi in altro campo deve essere fatta con tecniche professionali adeguate. Allora, la questione della parentela incrocia questo problema, scombussola, diciamo, il meccanismo delle adozioni. Forse il legislatore dovrebbe pensarci un momento. Vedremo cosa dirà la giurisprudenza ma questo è un altro caso in cui viene rimessa alla responsabilità della giurisprudenza una interpretazione che in realtà non è soltanto una interpretazione estensiva. Altro punto che mi sembra significativo ed è quello che riguarda sempre come conseguenza di questa parificazione agli effetti della parentela è quello che riguarda il 44 lettera B B come Bologna stavolta e cioè il conige il figlio dell'altro conige il conige che adotta che chiede di adottare il figlio dell'altro conige. Qui noi abbiamo alle porte signori due convenzioni di grandissimo rilievo la convenzione di Strasburgo testo riveduto del 2008 sulla adozione convenzione europea e la convenzione dell'AIA del 1996 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti di protezione eccetera eccetera quali problemi si affacciano su questo versante se ne affacciano due formidabili uno è quello della adozione non tanto del figlio del conige ma del figlio del partner e fin qui ci vorrebbe poco ad allargare quando il partner è dello stesso sesso questo è un problema molto grosso che è l'orizzonte possiamo rimuoverlo possiamo far finta di niente ma se la convenzione sarà ratificata questo viene fuori e allora il legislatore secondo me si deve preparare al di là di quelle che possono essere le preferenze personali le scelte le idee eccetera io vedo che su questo tema un dibattito serio non scalmanato non 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 si debba fare perché è certamente interesse del bambino non del partner in questo momento è vero del bambino che ci sia riconoscimento di un legame giuridico con il convivente della genitrice o con la convivente della genitrice e e questo legame giuridico non c'è dice se ci si può arrivare allargando l'adozione in casi particolari ma non è detto che debba essere un'adozione ecco che viene poi il discorso delle responsabilità genitoriali al plurale diamogli quella che per i francesi è la la guard quella che per gli inglesi è la custodia diamogli una serie un blocco di doveri e diritti ma non facciamo un discorso di adozione perché è chiaro che il genitore biologico diciamo così di quel bambino avrà pure cose da dire è vero si è detto che il 44 lettera B però se è decaduto dalla potestà ma perché vogliamo farlo sempre per cadere può darci che in realtà sia una persona che non merita un'etichetta del genere ecco allora io credo che questi due problemi questo problema molto grosso sia alle porte l'altro problema molto grosso io voglio concludere è quello è quello del paese islamici ormai l'islam è tra noi e l'islam porta con sé una cultura una normativa di di grande tradizione possiamo dire che non ci piace però esiste e allora come facciamo con quell'istituto giuridico islamico che ha quello strano nome di kafalà e del quale si sente parlare sempre più spesso come facciamo succedeva già 10-15 anni fa ma era una cosa che aveva un altro scopo come facciamo quando una persona ottiene dall'autorità competente nordafricana poniamo marocchina un minore in kafalà e vuole o portarselo in Italia o far sì che venga in Italia ecco la convenzione dell'area del 1996 e la legge di ratifica relativa il progetto il disegno di legge di ratifica relativo 1500 vi dico subito un numero esatto che è pendente presso la camera dei deputati direi ed è un progetto governativo quindi guardate i governati non è diciamo che non è l'iniziativa di un singolo deputato ecco è un progetto governativo prevede un meccanismo tale in base al quale sia possibile riconoscere questi casi di capa la che presentano due rischi uno è quello che siano adozioni mascherate l'altro è quello che siano sistemi per bypassare la normativa sull'immigrazione è chiaro che possano essere nell'uno o nell'altro essere delle ottime cose che debbano essere in qualche maniera riconosciute ma quei due rischi possono esserci da qui una forte resistenza del ministero dell'interno a autorizzare ad allargare i cordoni perché dice ma no entrano tutti così e anche un certo timore da parte del mondo minorile che possa essere un mezzo per aggirare l'adozione ecco questi sono secondo me i settori più significativi accenno appena ma non lo tratto perché credo che non sia più il mio ruolo quello di approfondirlo al problema enorme delle competenze il problema delle competenze che il legislatore ha buttato sul tavolo dicendo vedetevela voi e a quanto sento i problemi su questo punto sono relevanti perché su tanti nodi non si sa bene come lavorare tralascio un altro punto fondamentale quale giudice dico solo questo che ci sono sicuramente due esigenze molto importanti un'esigenza di garanzia e un'esigenza di specializzazione non si può sacrificare non si possono sacrificare le garanzie in nome della specializzazione ma non si possono non si devono sacrificare i caposaldi della formazione della specializzazione a vantaggio puro e semplice delle garanzie occorre che ci sia un equilibrio occorre che ci sia un equilibrio e per adesso la legge su questo punto tace si parla di tribunale per la persona e per la famiglia devo dire che vedo questa formula come di per sé poco significativa perché è un contenitore dove poi ognuno vorrà mettere quello che preferisce devo dire che si metta pure quello che si crede importante e opportuno ma che però la garanzia della specializzazione debbano essere salvaguardate avendo pari peso ve le grazie ringraziamo il dottor Fadiga del suo intervento che nella premessa aveva citato la legge 219 del 2012 per cui adesso lasciamo tutto l'approfondimento della normativa alla dottoressa d'orazzi no resterete delusi per questo perché quando l'avvocato Panini mi ha chiesto di essere qui oggi ho avuto molte difficoltà ad accettare perché la mole di lavoro è tale e tanto per cui ogni ora sottratta veramente ti fa sentire in angoscia in ansia poi lei mi ha detto ma lei ha già la relazione pronta perché l'ha già esposta a dicembre in occasione di un altro incontro quindi vedrà farà presto se non che poi è accaduto che un po' perché mi annoia a dire sempre le stesse cose è un po' perché è una relazione alla fine troppo tecnica che annoia anche gli operatori per cui ho deciso all'ultimo momento di capovolgere tutto il discorso è una decisione presa nelle ultime ore e di partire proprio da questa dalla brochure molto carina che avete preparato e dal cambiamento che nel corso di questi anni la separazione ha avuto e io parlo naturalmente non come esperta di diritto di famiglia come esperta psicologa parlo come giudice quindi posso dirvi che già in base alla mia esperienza un aspetto di questo cambiamento che mi ha sempre molto colpito è proprio come sono cambiati i processi i processi che hanno ad oggetto la separazione tra i coniugi io faccio il giudice da tanti anni e ho fatto sempre il giudice civile tranne rarissime piccolissime per fortuna parentesi di incursioni nel penale e devo dire che rispetto a 30 anni fa il giudizio di separazione i suoi tempi l'approccio del giudice gli interventi degli operatori sono cambiati in una maniera straordinaria cioè in meglio se posso dirlo perché sicuramente c'è un'attenzione molto più forte alle esigenze e agli interessi dei soggetti deboli però sono cambiate però noi abbiamo comunque sempre dei canoni dei criteri da rispettare il processo ha delle regole e noi non le possiamo ignorare e quindi dobbiamo fare i conti con le regole che abbiamo e cercare di inserire all'interno di queste regole tutti i tentativi che abbiamo a disposizione e che possiamo utilizzare per salvaguardare le esigenze della famiglia e io faccio parte di una sezione specializzata in diritto di famiglia la seconda sezione civile però voi sapete che non si occupa soltanto di famiglia il tribunale è un tribunale di medie dimensioni quello di Modena e non può consentirsi sarebbe un lusso troppo grande di avere una sezione con giudici specializzati soltanto nel diritto di famiglia quindi accanto al diritto di famiglia noi dobbiamo trattare tutta un'altra serie di materie che rispecchiano ricalcano un po' la divisione con la prima sezione civile nel senso che per esempio non ci occupiamo dei diritti di obbligazione però abbiamo tutta la materia della persona e del diritto di proprietà che è civile cosiddetto per i tecnici ordinario che si affianca anche al diritto di famiglia e questa specializzazione è già un passo avanti rispetto agli anni in cui ho cominciato io a fare il giudice perché nasce da una esigenza colta devo dire dal Consiglio Superiore della Magistratura che volle che nelle tabelle che voi sapete che sono i progetti organizzativi dei tribunali e ogni tribunale ne deve avere uno volle impose attraverso la circolare sulle tabelle che si costituissero queste sezioni specializzate come dico non sempre è possibile perché nei tribunali di medie dimensioni questa specializzazione non può essere esclusiva quindi si deve accompagnare anche ad altre materie e comunque cambia ma sempre relativamente la separazione ancora adesso noi ci occupiamo soltanto della separazione tra persone che hanno contratto matrimonio quindi ancora non c'è questa uniformità di trattamento tra le persone unite in matrimonio e quelle che sono conviventi e non hanno mai scelto di sposarsi questa differenza di trattamento che si come dire concretizza nel momento in cui l'unione cessa di esistere quindi i due si separano e quindi da una convivenza si passa a una situazione di separazione sia col matrimonio che con la convivenza di fatto questa differenza di trattamento è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale e superata nel senso di dire che era una libera determinazione delle parti delle persone quella di scegliere se unirsi in matrimonio o meno e quindi la diversità poi della disciplina conseguente alla separazione di fatto o giuridica discendeva direttamente da questa libertà di scelta e non poteva essere quindi considerata una disparità di trattamento e però i problemi ce ne sono ce ne sono parecchi anche perché se voi date un piccolo sguardo alla legislazione di questi ultimi tempi vedete che qua e là c'è riferimento e risalto alla situazione del convivente quindi la figura del convivente viene presa in considerazione in diverse disposizioni di legge che sono disseminate un po' dappertutto e viene presa in considerazione al fine di una sua tutela tanto per citarne una nelle amministrazioni di sostegno per esempio la legge sull'amministrazione di sostegno prevede espressamente che debba essere sentito tra le persone i familiari del beneficiario della persona che si deve sottoporre che vuole essere sottoposta a protezione tra i familiari è previsto che debba essere sentito anche la persona convivente quindi c'è un riconoscimento di questa figura che già per esempio anni prima non c'era e poi ecco un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre capolgevo tutto il discorso è stata proprio quella della figura dei servizi sociali e come inquadrarli nell'ambito di questo processo perché la separazione è sempre comunque si attua attraverso un processo e i servizi sociali se guardate il codice di procedura civile non sono contemplati in nessuna norma né nel codice di procedura civile c'è una norma che richiama quella del giudice tutelare il 344 del codice civile che prevede che il giudice tutelare possa sempre disporre per lo svolgimento delle sue funzioni della pubblica amministrazione degli organi della pubblica amministrazione l'unica norma che noi possiamo utilizzare perché diciamo far rientrare nelle regole del processo civile l'utilizzo che noi giudici facciamo rivolgendoci ai servizi sociali come dei nostri collaboratori ai quali affidare degli accertamenti delle indagini è l'articolo 68 del codice di procedura civile che parla degli ausiliari del giudice quindi come per il consulente tecnico il custode e altre figure il traduttore quindi entrano i servizi sociali nel processo di separazione e di divorzio come ausiliari del giudice la stragrande maggioranza delle coppie unite in matrimonio si separa consensualmente quindi le parti arrivano alla separazione con delle condizioni degli accordi che nella loro libera autonomia hanno scelto hanno deciso di adottare e ciò nonostante però proprio perché c'è questa permane continua ad essere questa differenza tra l'unione di fatto e l'unione dei coniugati comunque è necessario il controllo del giudice perché anche nella separazione che è consensuale quindi su accordo delle parti con le condizioni già stabilite fissate dalle parti il giudice interviene per l'omologa e l'omologa è proprio un controllo sulla rispondenza ai canoni di diritto degli accordi che le parti hanno adottato nella loro libera autodeterminazione che l'ordinamento riconosce questo controllo viene fatto da noi sotto due profili particolari perché le parti sono libere di autodeterminarsi negli accordi patrimoniali che adottano ma viene fatto soprattutto riguardo all'interesse dei figli minori e quindi noi controlliamo comunque che ci sia una modalità di affidamento che non siano contrarie alle leggi e che sia previsto un contributo al mantenimento ma quando i collegi non si trovano non riescono a raggiungere un accordo ci sono questioni per le quali si trovano in posizioni assolutamente contrapposte e inconciliabili che possono essere le più varie dalla responsabilità della separazione quindi della sua debitabilità sull'affidamento dei figli sulle modalità di questo affidamento sul contributo al mantenimento nasce il processo e quindi c'è un vero e proprio giudizio la prima fase davanti al presidente del tribunale per i provvedimenti urgenti che diano una regolamentazione dei rapporti della famiglia immediata e poi davanti al giudice istruttore e già nella prima fase diversamente da quanto accadeva anni fa e già questo è un primo cambiamento il presidente solitamente già si rivolge ai servizi sociali per avere da loro un ausilio un aiuto quando la situazione è così altamente conflittuale da non riuscire a a trovare il bandolo della matassa ad accertare veramente i fatti come sono a capire se c'è un disagio da parte del minore già in questa fase viene fatto nelle situazioni più esacerbate ovviamente di maggiore contrapposizione già viene svolto questo ruolo importantissimo dei servizi sociali di raccogliere informazioni informazioni sull'ambiente del minore sui rapporti con l'uno e con l'altro genitore sulla sua situazione di eventuale disagio e questa possibilità di ausilio da parte dei servizi sociali viene poi addirittura resa ancora più pregnante nel corso del giudizio quando dalla fase presidenziale si passa alla fase davanti al giudice istruttore però vi rendete conto voi stessi voi siete dei tecnici del diritto siete dei giuristi come sia veramente così già a prima vista incompatibile un processo così come lo pensiamo noi con le sue con i suoi termini le sue scadenze le decadenze le sue fasi scandite in maniera rigorosa perché poi abbiamo anche il grande problema del tempo del processo che non possiamo noi allungare in maniera indefinita perché la corte europea dei diritti dell'uomo ci ha bacchettato non una ma diecimila volte ogni anno lo stato italiano è costretto a pagare per i danni dalla durata eccessiva del processo enormi quantità di danaro quindi è una cosa alla quale noi siamo tutti tenuti a guardare quindi vi rendete voi conto già subito di come sia incompatibile questo processo così come strutturato con le esigenze di una famiglia con i tempi di una famiglia con le situazioni che si devono a volte proprio decantare con le conflittualità che devono trovare una risposta con i servizi sociali che intervengono per fare accertamenti e hanno bisogno di tempi perché a volte non si esaurisce nell'arco di un di un mese l'osservazione anche perché essi stessi vedono lo leggo nelle relazioni la necessità magari di protrarre nel tempo questo tipo di accompagnamento ai genitori perché si accorgono che sostenendoli nel loro percorso alcune asperità vengono meno si compongono e quindi chiedono loro stessi di poter proseguire in quest'opera un altro aspetto che forse è forse della maggiore difficoltà dei servizi sociali in questo momento per via del trasferimento di competenza di cui parleremo tra poco è il principio che regola il processo civile e che difficilmente possiamo tralasciare e cioè l'impulso di parte e il principio dispositivo nel senso che non ci sarà mai un intervento d'ufficio del giudice ma sempre ad iniziativa di parte non ci può essere perché sarebbe abnorme sarebbe fuori legge extra legge e quindi c'è sempre un impulso di parte e questo anche in questo caso abbiamo delle difficoltà a suscitare l'intervento del giudice se non c'è un'iniziativa della parte pur trovandoci magari in situazioni che richiederebbero un intervento tempestivo a tutela del minore non siamo configurati conformati strutturati come il tribunale per i minorenni che ha una procura della Repubblica che svolge questo tipo di iniziative proprio per per funzione per attribuzione specifica ed ancora l'immutabilità il principio di mutabilità della sentenza nel senso che il giudizio va definito va definito e ci deve essere un provvedimento sentenza o ordinanza che comunque lo chiuda principio questo che devo dire per la materia familiare è stato scalfito con l'articolo 710 che voi sapete che consente la modificabilità delle condizioni o anche delle condizioni stabilite dalle parti nella separazione consensuale o le statuizioni contenute nella sentenza all'esito del giudizio di separazione contenziosa il 710 consente di pervenire ad una modifica di quanto pattuito dai coniugi o stabilito dal giudice e questo perché lo stesso legislatore che si è reso conto che su questa materia non si può mettere una croce per sempre dire sarà così per l'eternità ci sono degli interessi la sentenza è immutabile nel senso che non si possono riproporre in un altro giudizio questioni che sono coperte dal giudicato in questo caso invece lo stesso legislatore si è reso conto che la decisione va presa allo stato degli atti e che quindi quando mutano ci sono giustificati motivi non diciamo in maniera non fondata ecco senza una 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 pervenza di buon diritto ma quando ci sono dei buoni motivi queste condizioni possono sempre essere modificate proprio perché riguardano non cose o situazioni ma rapporti interpersonali e nella stragrande maggioranza dei casi riguardano i figli e nella stragrande maggioranza dei casi riguardano dei minori ed è proprio ecco e mentre e arrivo alla legge 219 mentre nella nella nei giudizi di separazione e di divorzio anche se il divorzio è disciplinato non dal codice di procedura civile un'altra anomalia della nostra del nostro sistema ma da una legge ad hoc e quindi c'è voluto tutto un percorso per poi interpretativo giurisprudenziale per dire fino ad arrivare poi a una legge soltanto nell'89 il divorzio del 70 o dell'87 per dire che le norme del processo che disciplinano la separazione si applicano anche all'eno al processo di divorzio quindi dicevo mentre separazione e divorzio si svolgono attraverso questa gabbia del processo civile l'articolo 710 consente di adire il giudice quindi la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio consente di adire il giudice attraverso un processo che è il processo cosiddetto camerale cioè un processo che si svolge non si sa come perché non viene definito da nessuno infatti è in viso agli avvocati credo in particolar modo perché gridano che addirittura che venga leso il loro diritto di difesa il principio del contraddittorio che è un processo che non assicura queste garanzie io lo trovo un processo invece veramente veloce finalmente un processo veloce però lo devo dire zitta perché non è political correct invece credo che quando il giudice forse è lasciato un po' troppo la discrezionalità del giudice ma quando il giudice si attiene ai due principi cardine che sono quello di consentire sempre l'esercizio del diritto di difesa e il principio del contraddittorio questo è un processo che assicura sicuramente una tempistica molto più rapida che non il processo civile i principi però devono essere questi aggiungo un altro principio che nel nostro processo civile si è completamente perso che è quello dell'oralità e quindi della concentrazione perché quando è lo stesso giudice che sente le parti capisce quali sono le le istanze è in grado assolutamente di decidere sulla base della semplice discussione orale e quindi anche nell'immediatezza ma tant'è vero che questo processo è forse maggiormente rispondente all'esigenza di celerità non tanto del processo in sé ma quanto piuttosto di avere proprio dei provvedimenti immediati che possano avere ripercussione subito nella sfera degli individui che la legge 319 del 70 prevede che tutte le questioni che riguardano l'affidamento dei figli minori prima di competenza di genitori non coniugati prima di competenza del tribunale per i minorenni ora sono di competenza del tribunale ordinario e le norme che disciplinano questo tipo di intervento del giudice sono quelle del 736 seguenti del codice di procedura civile che sono proprio le norme che disciplinano il procedimento camerale noi posso dire l'ho già detto veramente abbiamo avuto un aumento esponenziale dei procedimenti perché accanto a quelli delle modifiche che già avevamo delle condizioni di separazione e di divorzio se ne sono aggiunti questi dei figli non di genitori non coniugati e dire che sono raddoppiati forse dire poco perché arrivati alla fine dell'anno veramente ne sono sopraggiunti tantissimi e in questo tipo di processi ecco un'altra cosa che io ho notato e l'ho notato in quest'ultimo anno proprio di esperienza lavorativa sul campo che l'ausilio dei servizi sociali è indispensabile ed è lo è ancora di più che non nei casi di figli nati nel matrimonio e mi sono chiesta perché me lo sono chiesta perché non è che cambino le persone se sono coniugate o non coniugate ma mi sono chiesta come mai si sentisse questo bisogno di avere elementi in più di conoscenza quando i genitori arrivano davanti a noi non sono più conviventi e litigano sulle modalità dell'affidamento e io penso che dipenda dal fatto un po' a parte situazioni un po' borderline nel senso di conoscenze magari neanche maturate nel tempo convivenze anche magari occasionali insomma a parte queste situazioni ma perché prima nel processo nel per la modifica delle condizioni di separazione c'era stato un processo e quindi tutte le situazioni che un processo una separazione consensuale un'omologa della separazione consensuale e quindi tutte le situazioni in un certo modo all'interno della famiglia erano state evidenziate erano saltate fuori erano state già esaminate dal giudice mentre invece in questi casi sono situazioni sempre oscure non perché siano le situazioni oscure ma che non emergono e noi non abbiamo altri strumenti se non quello di rivolgerci ai servizi sociali e allora voglio dire questo e poi finisco le relazioni dei servizi sociali sono sempre molto attenti ora lo so magari ci sono delle situazioni in cui spesso emergono delle disparità di vedute tra legali e i servizi sociali mi rendo conto che molto è anche come sempre accade affidato alla persona quindi al modo come svolge il lavoro come adempia il suo incarico però devo dire che queste relazioni nella maggior parte dei casi sono sempre molto precise attente e c'è soprattutto la l'intenzione la la volontà da parte degli operatori di arrivare ad una ad un percorso di mediazione tentano questo percorso di mediazione certamente non lo potrebbe fare il giudice in un'udienza in due udienze con le parti davanti in una mezz'oretta di tempo è chiaro che nel momento in cui arrivano davanti al giudice hanno delle belle posizioni già contrapposte già belle definite e non si può in una situazione che dura magari da tempo di conflittualità di di asperità eccetera illudersi che in una mezz'ora di vicinanza il giudice riesca a conciliarli quindi sono percorsi che richiedono molto tempo e per i quali c'è bisogno di molta cura di molta attenzione di molta pazienza ecco come conciliare questa esigenza di tempo con la nostra esigenza di tempo ma nel senso opposto che noi dobbiamo tenere presente che è quella di chiudere i procedimenti perché noi li dobbiamo chiudere non possiamo tenerli aperti e allora questo è un problema di cui bisognerebbe farsi carico e capire che non è più tempo di aspettare che ci vuole un tribunale che abbia questa specializzazione che sia tenuto a trattare questo tipo di controversie perché sempre controversie sono però attraverso un rito unico e non tanti riti quante sono le situazioni che si prospettano e attraverso io mi sentirei di dire anche perché sono stata alla sezione minorenni della corte d'appello e ho apprezzato sempre moltissimo il grande aiuto che proviene dai componenti non togati privati della sezione minorenni non ho mai fatto il giudice del tribunale per i minorenni però in corte noi avevamo la sezione specializzata nelle impugnazioni verso i provvedimenti del tribunale per i minorenni e la sezione è composta anche non solo dai tre giudici togati ma anche da due giudici da due componenti consiglieri non togati e il loro apporto è sempre stato grandissimo e dava conforto alle nostre decisioni e questo agire comune questo legame che si veniva a creare tra il giurista ecco il giudice esperto delle leggi o comunque con la mentalità incline a risolvere questioni giuridiche e l'esperienza che invece apportava il giudice il consigliere non togato è sempre stata straordinaria e alla fine è di grande conforto per le decisioni che venivano adottate in camera di consiglio quindi voglio concludo per dire appunto che ci troviamo in un momento di passaggio dove tutto è molto incerto dove mancano delle professionalità specifiche delle quali invece avremmo sicuramente bisogno e dove manca un percorso di mediazione assolutamente necessario per la famiglia in crisi che non può essere previsto all'interno del processo vi ringrazio ringraziamo la dottoressa dorazzi adesso al fine di evitare sorprese che anche la paola abbia cambiato il suo intervento la lasciamo libera di parlare non vorrei avere in basso no no anzi però mi scappa da farla avvocato e qualche osservazione mi scappa da farla non polemica no nel senso che no insomma no nel senso che nonostante faccio solo alcune precisazioni iniziali non almeno cercherò di non parlare a titolo personale ma parlo a nome del consiglio dell'ordine cui ho l'onore di appartenere e in conseguenza anche di questo non farò una relazione tecnica per cui non so se do sollievo o gioia o tristezza dobbiate prendere appunti lo scopo del mio intervento era di voglio dire anche fisicamente dare un senso a quel lavoro che quantomeno da un paio di anni stiamo cercando di fare come consiglio dell'ordine e questo mi interessa precisare perché è importante credo all'interno del processo anche la voce dell'avvocato quindi il mio compito è quello di offrire alcuni spunti spero di riflessione per i colleghi per gli operatori dei servizi o dei centri di mediazione che magari ci piacerebbe conoscere anche meglio e con gli altri soggetti che sono seduti al mio tavolo adesso il dottor Fadiga non l'ha detto lui ha un sito molto bello se volete vedere per chi non lo conoscesse anche un simpatico indirizzo di post elettronica perché è molto disponibile il dottor Fadiga a ricevere anche segnalazioni o a intervenire nel senso che è una sinergia questa a favore del minore o del processo minorile inteso in senso complessivo che voglio dire lui testimonia con impegno personale che sta portando avanti benché non sarà un intervento tecnico qualche norma vigente mi scapperà di richiamarla questo con riferimento alla legge ovviamente 219 che è stata definita la riforma epocale in materia di diritto di famiglia molto di più della legge sull'affido condiviso quasi al pari della legge di riforma di diritto di famiglia che pochi ancora di noi pochi di noi ancora conoscono ancora bene e dall'altro lato scherzava il dottor Fadiga dicendo di potestà genitoriale c'è ancora purtroppo qualche atto giudiziario dove si legge patria potestà quindi speriamo che si faccia il salto complessivo e si arrivi direttamente alle responsabilità genitoriali ma anche la legge scusate decreto legislativo questo prendetelo l'appunto 2812 del 2013 numero 54 154 in vigore da venerdì scorso ok che rappresenta quel famoso decreto attuativo che tanto veniva preannunciato nella legge 219 lo menziono per chi non l'avesse ancora frequentato ho visto qualche faccia sgomenta nel senso che lo vedrete qualche monografia c'è già in commercio in attesa che si arrivi a un qualcosa di più produttivo chi non volesse guardare la legge perché è fatta con la solita tecnica normativa è abrogato sono sostituite le parole dove al terzo articolo ci siamo tendenzialmente già persi c'è una simpatico tavola sinottica su Altalex con commento di buffone non voglio fare pubblicità ad Altalex però è comodo per rinvenire lo dico semplicemente perché chi era abituato a parlare degli articoli 155 156 quater non li vede mica più cioè questo regolamento questo decreto legislativo ha completamente cancellato rimodulato con diversa sistemazione anche organica le norme che riguardano la famiglia e il processo nella parte del codice civile della famiglia quindi è importante conoscerla ci ho detto principio il mio intervento dicendo che anche se non l'ha menzionato la Daniela il titolo della mia relazione del mio intervento mi piace da morire mi piace da morire perché innanzitutto nel suo incipit genitori figli e processo visto che qua siamo di diversi tipi diversi ruoli diverse funzioni si capisce subito qual è il ruolo dell'avvocato nessuno evidentemente chi mi conosce un pochino sa che questo è un come dire un incipit un po' provocatorio ecco perché pensare che io possa dire che non conto niente mi dà un po' da fare ok ed è chiaro che questa valutazione non è un commento negativo per le frustrazioni della pratica quotidiana del processo di famiglia non è una critica ovviamente ma quando la dottoressa Dorazzi mi parla di oralità io ci sto nell'oralità perché ci si perde delle volte in atti non atti chiaro che sul concetto di oralità come dire intendiamoci discutiamo risolviamo ma non che io stia lì delle ore silenti di fianco a una parte che viene sentita oppure non che io per esempio accompagni la parte in udienza come era successo io categoria avvocatura accompagni la parte in udienza aspetti l'orario fissato per l'udienza e poi manco posso entrare in aula d'udienza perché non va mica bene oppure quando l'oralità io parlo per gli avvocati nel senso che devo parlare agli avvocati benissimo ok è importante chiarirci sulle nozioni ok così come neppure questa considerazione di dire che non contiamo niente mi viene dal come dire delle volte in prosecuzione dell'incontro che abbiamo fatto a dicembre di dire che quando per ventura mi viene voglia di o mi sento anche solo in dovere di contattare un assistente sociale delle volte ho difficoltà a relazionarmi con uno dei servizi parla l'avvocato come se fosse un appestato non ho brutte malattie come dissi allora trasmissibili telefonicamente si può parlare con gli avvocati gli avvocati possono lavorare ai fini di un processo che porta alla soddisfazione degli interessi di tutti e anche al rispetto dell'interesse del minore quel dire che noi non contiamo niente vale e serve a introdurre il concetto che adesso vado a esplicitare cioè che in un processo separativo genitore partner coniugati o non coniugati separazione piuttosto che divorzio è uguale è un processo che ha delle parti diverse dagli avvocati che si svolge tra genitori figli comunque adulti che non sono degli avvocati dicono ovvietà no non la dicono ovvietà non la dicono ovvietà e qua parla il praticante consigliere che è in me perché sono ancora un giovane consigliere dell'ordine è per dirvi che voi non avete idea giusto nel momento in cui parliamo di ruoli all'interno di un processo voi non avete idea di quanti esposti vengono su al consiglio dell'ordine come dire mi viene in mente qua il nostro presidente Trevisi che quando soprattutto negli ultimi incontri di deontologia quando parla finalmente anche degli avvocati di diritto di famiglia o della materia di diritto di famiglia esordisce dicendo state calme chi non conosce la dirittura morale e la simpatia dell'avvocato Trevisi potrebbe prendere male questa frase come se fosse una frase limitata sessista prima degli anni settante come se il processo fosse seguito solo dalle donne o come se le controverse familiari traessero fonte più che dal cervello da parti anatomiche inferiori ma è perché l'avvocato Trevisi dicendo questo vuole dire realmente che su abbiamo una marea di esposti per condotte deontologicamente illecite scorrette tenute da degli avvocati nei processi di diritto di famiglia avvocati che sposano il loro cliente e quindi che negli atti giudiziari cominciano a scrivere delle peggio cose nei confronti della controparte sia esso avvocato sia coniuge o partner dimenticando la ripercussione e che quegli atti scritti così scritti sono dei macini mai più rimuovibili mai più sollevabili perché poi quando ci sono delle parti in conflitto la prima cosa che fa è che uno vada a casa e faccia leggere al bambino guarda che cosa hanno scritto questo qua guarda cosa hanno detto di me lo fa vedere a parenti amici sono passi da dove non si ritorna più indietro usano dei colleghi che voglio dire per fare bella figura davanti al giudice o per ottenere provvedimenti a loro favorevoli usano con estrema tranquillità di corrispondenza riservate personale usano producendole in giudizio che usano di prove illecite o quando va bene illecitamente acquisite che usano dell'esposto disciplinare per forzare il difensore avverso io ti faccio l'esposto a vedere se te molli o cambia atteggiamento processuale o quel che peggio che usano del mezzo penale per fare delle forzature sulle parti questo per dire che se è vero che noi non siamo parti del processo di sicuro noi avvocati svolgiamo un ruolo al di là del diritto di difesa che è evidente ma fondamentale nella gestione del conflitto relazionale parlo di conflitto relazionale per non dire coniugale o comunque del momento separativo dico questo consapevole di essere nel febbraio 2014 dunque in un periodo di crisi economica mondiale e quindi anche di crisi economica dell'avvocatura in un mondo che è cambiato anche a livello di valori di un mondo dove come dire al valore dell'etica o della morale si è sostituito e si sostituisce molto spesso il valore del denaro con questo voglio dire che mi rendo conto che può sembrare come dire aria fritta che un consigliere parli di odontologia o parli di richiamo alle regole quando sono perfettamente consapevole che in questo momento storico avere un incarico professionale significa anche delle volte sbarcare il lunario e quindi a questo consegue che come dire già che è una laurea in giurisprudenza già che è un titolo d'avvocato io possa fare una separazione tanto quanto posso fare un recupero credito il titolo di studio è lo stesso chi me lo vieta ovvero che una volta che acquisito l'incarico io lo debba mantenere perché comunque ci debbo mangiare guardo la Daniela perché prima o poi mi aspetto un'espulsione dall'ordine d'ufficio è dal mio segretario ma insomma vedo fino a che punto mi posso spingere nel senso che molte volte mantenere un incarico significa anche dare ragione al cliente dove ti vuole portare tu lo sai già nel momento in cui senti cosa ti dice dove si può arrivare con un processo dove possono trovare attuazione o accoglimento i suoi diritti o le sue pretese eppure stai lì gli dai ragione o lo assecondi in azioni o in richieste che non dovrebbero essere fatti tenuto conto che per quella crisi di valori che dicevamo prima nella percezione generalmente diffusa dell'avvocato bravo è l'avvocato che è cattivo che non parla con la controparte che va e che sbacchetta questa è l'idea dello state calme a cui si riferisce il nostro presidente nel senso che pur rendendomi conto che è difficile fare l'avvocato non riesco a seguire i nostri governanti nella specie il fumonti quando come dire pensò che la nostra professione dovesse essere in tutto assimilata a un'attività imprenditoriale io continuo a pensare e per fortuna anche qua il consiglio non sono l'unica che la nostra professione sia soprattutto una professione etica un richiamo ai valori e un richiamo alla responsabilità della nostra attività responsabilità voglio dire anche in comparazione tenendo conto che queste fonti e maggior ragione nella 219 ci richiama ad imperativi etici l'interesse del minore l'interesse del minore essere curato ad avere entrambi i genitori ad avere delle relazioni importanti e significativi è un valore superiore è un valore superiore o pari ai diritti o migliore rispetto ai diritti che i nostri clienti ritengono di avere con ciò intendo dire che l'avvocato a differenza del magistrato semplifico usando forse una dizione impropria non deve svolgere la funzione pubblicistica di perseguire esclusivamente l'interesse del minore ma svolgo una funzione certamente costituzionalmente rilevante che è quella dell'esercizio del diritto di difesa ma lo faccio nei confronti di diritti e di parti che sono adulti e che sono diverse dal minore ma io le devo conciliare parti che per noi non dimentichiamolo mai sono clienti noi gli avvocati lo sappiamo gli operatori per noi sono clienti cioè io ho un rapporto di mandato sono retribuita devo non dico ottenere per forza un risultato ma io devo essere portavoce di quello che è loro di quello che è loro diritto sono parti per noi che sono adulti vuoi che siano genitori o i genitori dei genitori nel senso che il decreto attuativo della 219 ha riconosciuto anche una legge ponendo fine a un grossissimo dibattito si no dove chi come ha introdotto e chiarito proprio che hanno legittimazione attiva anche i nonni del minore se il loro diritto di visita alla frequentazione nei confronti del nipote è impedita con una strana schizofrenia perché con la legge 219 ha portato tutto avanti al tribunale ordinario qua l'azione la domanda la situazione sarà introdotta dei nonni sarà introdotta invece davanti al tribunale dei minori ok però su questo ci siamo chiariti ok dico che e faccio anche un'altra giusto così per cultura generale insomma l'articolo che dispone in ordine al diritto dei nonni di proporre autonomamente azione per il diritto di frequentazione ai nipoti è il nuovo 317 bis 317 bis vecchio è scomparso non è solo scomparso con lui l'articolo che è stato ricollocato altrove ma è proprio scomparso quell'incipit che molti di noi hanno cavalcato soprattutto in caso di separazione di copie non coniugate laddove si diceva che se il figlio era riconosciuto da entrambi ma risiedeva si dava rilevanza al fatto storico della risiedenza anagrafica presso un genitore questo genitore ne aveva automaticamente l'affido esclusivo di tal che doveva adire il tribunale per l'altro genitore per chiedere l'affidamento condiviso qua parificando quindi dando attuazione anche voglio dire alla razio della 219 è scomparso questo cioè tutti i genitori sono ugualmente responsabili nei confronti dei figli la residenza lo decidono tutti e due insieme e quel residuato è stato definitivamente con buona pace della Cassazione che è definitivamente abrogato dicevo che i nostri clienti che sono adulti sono parti di un processo ma sono oltre che genitori anche individui e con questo credo che i colleghi mi comprenderanno nel momento in cui faccio riferimento evidentemente al processo separativo o divorzile di coppie coniugate laddove attualmente la pratica tribunalizia come dire ci fa constatare voglio dire in termini educati ci fa constatare che talora se rivendichi diritti in forza di norme non abrogate come può essere l'istituto dell'addebito oppure come può essere il dovere di assistenza materiale morale materiale soprattutto tra i coniugi dunque quando rivendichi un assegno come moglie ad esempio per scendere nel concreto non devi essere penalizzato non esiste che un coniuge sia non esiste a mio personale giudizio che un coniuge sia solo genitore esiste anche come individuo portatore di diritti autonomi diritti autonomi che poi devono trovare conciliazione con l'interesse del minore che menzionavo prima minore che in questo processo separativo è entrato a gamba tesa è entrato a gamba tesa nel senso che se ne parlava da sempre prima o poi ne parleremo anche noi dovendone prendere atto in questa interessante come dire cammino che abbiamo fatto con l'osservatorio provando a ragionare e sto parlando dell'ascolto del minore sto parlando dell'ascolto del minore che è entrato a gamba tesa nel senso che il decreto legislativo ha espressamente previsto in tutti i procedimenti che riguardano il minore che debba essere ascoltato e sentito quindi il suo adempimento dei principi delle convenzioni internazionali debba essere sentito tranne nei procedimenti per esempio per semplificare consensuali o congiunti quando la sua audizione è o manifestatamente superflua ovvero contraria al suo interesse diritto del minore che viene dal decreto legislativo regolamentato anche con riguardo all'aspetto della presenza degli avvocati e con riguardo anche non specificatamente ma al valore probatorio delle dichiarazioni del minore nel senso che tante volte si è interrogati dicendo ma il minore deve essere ascoltato deve essere munito di un difensore se viene cosa dice tolta anche questa sgradevole esperienza di alcuni colleghi che fanno la preventiva audizione del minore nel loro studio no? ok non scendo in dettaglio ma l'avvocato deve essere presente l'avvocato di chi deve essere presente devono essere presenti i genitori e le sue dichiarazioni devono essere verbalizzate e acquistano valore di prova e se lui dice che vuole stare con la mamma deve il giudice vincolarsi al desiderio del minore allora questi articoli qua ci chiariscono che i difensori hanno diritto di essere ammessi se il giudice l'autorizza e deve essere verbalizzato esclusivamente il contegno del minore o può essere fatta registrazione audio o visiva adesso vedremo per le solite norme senza pesi per l'amministrazione della giustizia come poter tradurre questo adesso una sala ce l'abbiamo vedremo come come lavorare anche su questa cosa e quindi tutto questo per dire che nel 2014 occorre un foco anche in ragione di queste norme anche in ragione di questa professione che cambia occorre un forte rimpensamento dell'avvocatura e del ruolo dell'avvocatura all'interno del processo chi vi parla si unisce al coro anche se per diversa voce o per diverso oggetto che è uscito finora cioè della come dire della specializzazione come valore o come valore aggiunto rispetto eh la penso così io non la pensano così i nostri governanti i medici possono essere specializzati noi no ok quindi anche questa per me una chimera quindi credo che l'unico modo per lavorare se non voglio dire rimetterlo all'obbligo formativo e al desiderio spontaneo di formazione è quello ovviamente di lavorare sulla deontologia dell'avvocato cosa che questo consiglio si è ripromesso di fare sta facendo e continuerà a fare ok se questa è una professione etica e anche questo riprendo una parola che è uscita più volte oggi pomeriggio cioè quella di ascoltare perché dico questo perché penso a come l'avvocato potrebbe fare potrebbe non fare danni all'interno di un processo separativo a dicembre quando abbiamo fatto quell'altro convegno con i servizi sociali un assistente sociale un dato che io non conoscevo ha detto che loro lavorano come servizi in verità più per cercare di rimediare a situazioni con separazioni consensuali già chiuse che non in via preventiva ho detto oppla vuol dire che noi delle volte sbagliamo vuol dire che forse magari esageriamo nel credere che il valore della chiusura giudiziale della lite sia il valore da perseguire certamente quello che dobbiamo noi come avvocati che si occupano di diritto di famiglia anche se fanno dei decreti ingiuntivi è quello di approcciarsi a una relazione familiare senza giudicare le relazioni capire e qua viene in gioco la locandina di questo convegno la famiglia e le relazioni che queste persone rappresentano qual è il tipo di famiglia che loro vogliono avere sono tanti i modi di fare famiglia c'è chi si sposa c'è chi convive c'è chi vive con uno e che ha un'altra moglie fanno dei figli è un mondo che è completamente cambiato e non si può ragionare per standard per modello di separazione che ho nel programma gestionale dello studio occorre capire dove queste persone vogliono andare adattare la chiusura negoziale dell'accordo separativo in relazione all'assetto separativo che viene a realizzarsi dopo la conciliazione giudiziale se a questo punto il nostro ruolo diventa a parere del consiglio come dire l'avvocato di famiglia bravo non è quello che vince le giudiziali è quello che riesce a chiudere le consensuali faccio questa premessa per dire che come dire se anche il nostro ruolo deve essere rimodulato verso un'ottica conciliativa dico che chi meglio di noi lo può capire no gli interventi recenti del decreto del 28 del 28 del 28 del 2010 hanno riconosciuto gli avvocati hanno riconosciuto di diritto addirittura noi abbiamo un bonus come dire di compenso tabellare se chiudiamo una controversia diciamo che però non tutti siamo capaci di fare questo di chiudere una controversia uno strumento importante è certamente ed è questo perché l'abbiamo fatto oggi quello della mediazione mediazione familiare cui anche il decreto legislativo dà una grossa rilevanza e importanza tant'è che viene espressamente chiarito che il presidente o il giudice istruttore prima dell'adozione di provvedimenti con il consenso delle parti e avuto il loro consenso può rinviare l'adozione di provvedimenti sulla famiglia all'esito della sperimentazione di un percorso di mediazione allora di mediazione ce ne sono di tanti tipi tante forme noi abbiamo scelto di lavorare con il centro per le famiglie di sicuro però credo che a tutti noi avvocati come dire sia capitato di vedere finora come nel processo di famiglia è attuata la mediazione quindi per semplicità dico che la mediazione secondo me nel processo separativo ha un senso se è spontanea e se è voluta nel senso che quelle mediazioni che vengono delegate dal giudice cioè andate voi a litigare secondo me non portano nessun portano a pochi risultati se non la paura se non risultati conciliativi sul timore che poi la sentenza che ne viene fuori se non ti concili sia peggio di quello che ti può capitare se ti accordi dunque quegli accordi su cui poi forse gli assistenti sociali vanno a lavorare oppure quelle mediazioni alle quali facciamo approcciare i clienti con la riserva mentale che se ci sono andata faccio bella figura dal giudice perché sono io quella che è andata in mediazione mi sono dichiarata disponibile oppure perché dopo io ci vado sempre non ci credo però dopo così posso dire in processo che io avrei proseguito nel percorso di mediazione ma è stato l'altro che non ha raggiunto l'accordo perché l'ha interrotta oppure ancora li mando in mediazione perché ho la speranza vana perché non esiste minimamente che poi il mediatore venga in giudizio a riferire delle cose che poi sono accadute in mediazione tutto questo è sbagliato la mediazione è uno strumento ottimo se attuata come dire come si deve con questo intendo anche fare un passettino in più l'ho fatto a dicembre lo faccio anche adesso la sperimentazione delle coppie che sono andate in mediazione ci porta a dire che abbiamo due problemi oggettivi proprio concreti quello di come dire avere delle persone che si accostano alla mediazione ma hanno paura di dire dei sì perché poi devono sempre sentire l'avvocato perché se gli conviene o non gli conviene oppure delle mediazioni parziali chiuse come in verità direbbe anche questa nuova formulazione del decreto solo su taluni aspetti del conflitto separativo dunque per esempio solo sulla questione frequentazione figli affidamento è lasciato aperto tutto il resto e quindi quando vengono in studio da noi cosa succede gli vai a dire ma scusi signora avete detto che vi frequentate una settimana una settimana l'altro avete dei redditi analoghi e le assegne di mantenimento come tribunale permettendo assegni di mantenimento come si fa a pensare ipotizzare che ce ne possano essere e allora a quel momento lì uno che non è adeguatamente informato revoca il suo consenso oppure scatta il conflitto su altre controversie su altre questioni non trattate non trattate neanche in segno di mediazione parziale quindi butto l'amo e dico perché così come con gli assistenti sociali non proviamo anche a coinvolgere l'avvocato nella mediazione voglio essere chiara qualche tempo fa per conto del consiglio sono andata a un corso di formazione del consiglio superiore della magistratura e lì si parlava di mediazione consulenza tecnica e c'era un consulente tecnico che disse che gli avvocati devono andare in consulenza questo specificando non a fini collaborativi ma perché meritavano di essere anche loro periziati ecco allora io non voglio arrivare a questo estremo voglio dire che quando dico che se partecipa alla mediazione è perché magari possiamo arrivare più celermente a un accordo possiamo mettere in discussione nella segretezza della mediazione anche tanti aspetti che magari non potranno mai essere decisi nel giudizio di separazione perché è ultrone rispetto al potere di intervento del giudice e così definitivamente magari chiudere tutto il conflitto conflitto che comunque può essere chiuso dalla decisione giudiziale e anche questa per me che faccio l'avvocato non è una brutta cosa anzi mi viene da dire che ci sono certe famiglie o certe relazioni che hanno bisogno di una decisione giudiziale per dirimere il conflitto ma anche per imparare a costruire a condizioni diverse su un deciso però che deve essere celere qua mi riallaccio al forse incipit della dottoressa Dorazzi e mi viene in mente l'unica come dire differenza tra figli che la 219 ha lasciato nel senso che è una differenza sotto il profilo processuale nel senso che i figli di coppie coniugate hanno un rito i figli di coppie non coniugate hanno un altro rito cioè se io vado come dire questo lo dico evidentemente non a vantaggio dei colleghi se io devo separare una coppia coniugata ho un'udienza presidenziale celere provvedimenti immediati e un processo che poi prosegue con le regole del contraddittorio avanti un altro giudice istruttore forse a tempi biblici ma comunque io ho una situazione già regolamentata e ho delle garanzie processuali forse tante perché magari è sovrabbondante il rito contenzioso ordinario per un processo come questo nel processo invece di coppie non coniugate ho il rito camerale che è vero non si sa come si fa perché senza è privo di forme ok all'oralità all'accelerità nei limiti in cui i tempi e il carico di lavoro del tribunale consente di fare perché ha perfettamente ragione la dottoressa Dorazzi cioè questo è un procedimento molto bello molto snello senza forme però avrebbe un senso se l'udienza fosse poi fissata in tempi veloci e poi se come dire la decisione fosse altrettanto veloce ma qua non abbiamo l'avremmo ne parleremo forse la possibilità di provvedimenti interinali occorre fare un minimo di istruzione quelle relazioni dei servizi che diceva prima la dottoressa Dorazzi e poi si deciderà ma nel frattempo passano i mesi come sono solita dire nei mesi che passano uso lo stereotipo i papà non vedono i bambini le mamme non vedono i soldi ma detto questo io sono d'accordo e poi mi fermo perché so che sto andando in un campo minato e so che sto andando in un campo come dire dove ho visto che anche i provvedimenti del nostro tribunale stanno cambiando io sono d'accordo all'intervento dei servizi nel processo separativo in senso ampio però se è vero che il processo minorile ha come oggetto dei diritti di rango primario altrettanto forti devono a mio personale avviso essere le garanzie con ciò intendo dire che se i servizi intervengono in un processo davanti al tribunale ordinario per me possono intervenire ed essere ausiliari del giudice allora quando accertano e fanno quel lavoro di indagine che serve al giudice per comprendere meglio la famiglia su chi sono i componenti la storia come vivono anche per verificare effettivamente se noi avvocati raccontiamo delle bugie però quello che a mio avviso non dovrebbero fare se già con difficoltà lo accetto con un CTU è che loro regolamentino le modalità di affidamento e di frequentazione dei genitori e figli questo mi sembra un mandato un pochino troppo ampio so di aver esagerato mi fermo e mi taccio la paola ha lanciato una serie di provocazioni debbo scusate ha lanciato delle provocazioni e io me lo posso permettere sull'aspetto deontologico è anche stata buona perché tre visi e tutto il consiglio quello che vediamo è anche molto peggio per cui questo sarà un argomento che l'avvocato tre visi poi toccherà in un'apposita diciamo così pomeriggio deontologico chiedo scusa al dottor camiolo ma volevo fare questa precisazione perché vedevo gli sguardi un po' perplessi prima per cui volevo precisarlo devo dire che il suo titolo è veramente di effetto rottura e ricostruzione dei legali familiari genitori e figli di fronte al cambiamento rottura e ricostruzione vediamo che cosa si può fare grazie si sente essere l'ultimo alle cinque dopo una giornata da qui si osservano e si riconoscono i fumatori per esempio c'è un nervosismo da crisi d'astinenza che è fantastico e si nota guarda cercherò di essere molto breve molto succinto anche perché molte cose che sono connesse al mio intervento di fatto anche se con taglio diverso sono già state comunque molto espresse dagli interventi precedenti io avevo preparato un po' di fogli cercando di individuare gli aspetti inerenti ai cambiamenti dei nuclei familiari intesi come trasformazioni epocali eccetera credo che visto il taglio della giornata non serva a molto nel senso che poi sembra più essere una riflessione di tipo sociologico antropologico più che un'osservazione fatta da uno psicologo quello che mi interessa comunque sottolineare è quello che ormai abbiamo già capito tutti e cioè che effettivamente il concetto l'idea della famiglia si è sicuramente modificata in modo direi molto rapido rispetto a quanto era accaduto nei secoli precedenti e nei periodi precedenti c'è qualcuno che tenta di individuare le cause come dicevo prima non sempre sono studiosi in ambito psicologico però credo che sia importante definire che queste modificazioni degli assetti familiari poi arriveremo naturalmente alla separazione di volzio come modificazione radicale ma diciamo la modificazione storica degli assetti familiari deriva da tante variabili che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni guardo perché c'è un autore nello specifico che li ha elencati comunque è chiaro che per esempio sta cambiando il modello di famiglia nel senso che la diminuzione dei livelli di natalità e diciamo il prolungamento le aspettative di vita che si sono enormemente innalzate cambiano proprio è uno degli elementi che ha cambiato la struttura del nucleo familiare ancora la mia generazione viveva mediamente con i propri genitori oggi nuove generazioni vivono con i genitori i nonni e qualche volta con i genitori nonni bisnonni questo perché naturalmente l'aumento dell'età media comporta il fatto che oltre all'accudimento della prole spesso ci si ritrova a immergersi nell'accudimento dei propri avi dei propri genitori ed è un modello di famiglia nel quale si convive in modo molto differente rispetto a quello tradizionale poi naturalmente ci sono le complessità del mondo del lavoro la famiglia è cambiata perché come diceva un famoso ministro ormai abbiamo bamboccioni da tutte le parti che guarda caso secondo alcune ricerche non tra l'altro freschissime ma che anticipavano l'andamento sono bamboccioni maschi perché sembra che poi le femminucce in realtà se ne vadano abbastanza rapidamente di casa molto prima in età molto prima dei maschietti c'è l'integrazione delle culture ci sono i matrimoni cosiddetti misti tra culture diverse religioni diverse provenienze diverse ci sono dei mutamenti dei bisogni individuali potrei andare avanti moltissimo il tema però vero è un altro è che è un po' come se noi andassimo a vedere una rappresentazione teatrale noi abbiamo in questa opportunità di andare a teatro vedendo una rappresentazione un'opera eccetera eccetera o anche un film abbiamo l'opportunità di assumere mediamente due ruoli abbastanza differenti il primo ruolo è quello dell'osservatore e quindi noi andiamo a questa rappresentazione sentiamo dei dialoghi vediamo dei movimenti osserviamo dei comportamenti e la nostra posizione è quella sempre di stare esterno cioè di ricordarci costantemente che siamo seduti in plateo in galleria e che quindi viviamo una rappresentazione della quale non facciamo parte cioè siamo esterni al contesto che viene rappresentato l'altra possibilità invece è che noi quando andiamo a teatro o a un concerto o un'opera o anche al cinema tendiamo a identificarci nel contesto che viene rappresentato cioè entriamo a tutti gli effetti sul piano emotivo sul piano affettivo addirittura sentiamo paura i classici film in cui viviamo dei momenti di paura di timore perché c'è una situazione di tensione un'automobile che va troppo veloce entriamo dentro e partecipiamo a questa rappresentazione ecco io credo che questa sia un po' la discriminante che in qualche modo caratterizza e può caratterizzare il vero cambiamento del nucleo familiare nella fase entro nel merito naturalmente della separazione cioè il fatto che c'è un passaggio probabilmente legato a tante variabili per cui uno dei due soggetti o entrambi i soggetti tendono ad astrarsi dalla rappresentazione che fino a ieri avevano celebrato insieme questo astrarsi non è asettico è un astrarsi spesso che è accompagnato da emozioni turbolente non sempre di rabbia non necessariamente spesso è il dolore noi sappiamo che la separazione è una prova molto difficile anche per chi la decide anche per chi la desidera sopra ogni cosa ma è un momento doloroso separarsi staccarsi abbandonarsi cambiare cambiare la propria vita cambiare le proprie abitudini cambiare i propri rituali è sempre un'operazione che comporta una certa sofferenza è sempre un'operazione che comporta la nascita di quelle che alcuni specialisti definiscono di relazioni di tipo reattivo cioè tutto ciò che ieri mi portava a essere compatibile con te oggi la stessa cosa diventa elemento che mi porta a essere contro di te parlo subito della separazione perché uno non voglio essere dilungarmi troppo ma anche perché nel mio lavoro quotidiano non a caso mi hanno chiamato prima come giudice all'orario oggi come scritto all'albero del CTU del Tribunale di Milano è un po' la materia nella quale mi ribatto tutti i giorni io credo che i punti nodali del cambiamento inerente alla separazione siano quelli che riguardano soprattutto la presenza di prole questa prole che voi sapete c'è un libro bellissimo di Galimberti che parla della necessità di un accoglimento da parte dei bambini se me lo consentite vi leggo un pezzettino dice c'è bisogno per chi nasce di un sì iniziale per consentirgli di divenire un viandante che esplora l'universo circostante anziché diventare un sedentario attorno al quale tutto deve ruotare io credo che si immagina molto bella nel primo si è il mondo cioè nel caso in cui si diventa un viandante esploratore mentre nel secondo si è consumatori del mondo se come spesso accade qualcuno non riceve quel sì l'avventura della vita inizia nel più miserevole dei modi sotto il segno dell'accattonaggio degli affetti della questua per un po' di attenzione e di benevolenza questo scrive Galimberti filosofo psicoanalista eccetera naturalmente questo viene portato come esempio della scelta della genitorialità il vero problema è che tutto questo ha senso e ha valore anche quando apparentemente si è fatta la scelta della genitorialità si instaurano delle relazioni con i figli ma nel momento in cui sopravviene il conflitto o comunque la separazione coniugale non si riconosce più il proprio ruolo sia di fronte al partner all'ex partner che ai figli cioè di fatto quel sì iniziale anche se c'è stato viene meno viene cancellato non viene cancellato per cattiveria naturalmente non è che chi si separa è cattivo è patologico necessariamente patologico il vero problema è che essendo un evento doloroso comunque per tutti nelle condizioni nelle situazioni di emergenza e di dolore ognuno di noi tende a orientarsi rispetto al proprio ruolo alla propria condizione io credo che anche gli ultimi avvenimenti nel campo marinaro ci insegnano che non è più vero o comunque non è vero che quando le navi affondano si fanno entrare nelle scialuppe prima le donne i bambini a Milano si direbbe chi ciapa ciapa cioè quello che prima arriva meglio alloggia sia Barbie che la barchetta e cerca di andarsene in riva questo è un po' quello che capita nella situazione emotiva di una separazione ripeto sia da parte di chi la agogna la desidera e la propone ma sia da chi tra virgolette la subisce quindi questo è il vero problema che l'autoreferenzialità che subentra e che è funzionale alla difesa dal proprio dolore fa sì che quei preminenti interessi del bambino tutte queste attenzioni nei confronti dei minori dei figli eccetera eccetera immancabilmente debbano venire meno e questo lo dico perché c'è una propensione alla colpevolizzazione perché questo è uno dei dati importanti no? cioè il genitore che nella fase separativa non riesce fino in fondo a tutelare il figlio viene un po' percepito come una specie di camorrista nei confronti del quale bisogna prendere dei provvedimenti drastici e punitivi la realtà è che la vita è molto più complicata ci sono dei colleghi mi ha fatto sorridere e mi ha dato un senso di poesia quanto diceva l'avvocato prima sull'approccio di alcuni colleghi no? se dovessimo stare qui potrei raccontarvi su psicologi e colleghi che fanno i CTU aneddoti e anche riflessioni amare rispetto quindi in tutte le categorie così siamo tutti contenti ci tiriamo su di morale ci sono dei desperados ma il vero problema è che c'è una propensione io vi rendo conto anche all'interno per esempio delle consulenze tecniche a una sorta di intolleranza di fronte alle ripercussioni della sofferenza individuale quindi se tu anche se in una fase privilegi la tua sofferenza il tuo dolore diventi un cattivo genitore e quindi devi essere sanzionato perché dico ciò? perché la risposta che poi c'è il rischio di dover dare è quella che dice che di notte tutti i gatti sono grigi cioè che non c'è più responsabilità non c'è più individualità non ci sono più da attribuire delle incapacità delle inadeguatezze quindi la possibilità di rimanere in una situazione equilibrata in cui non si colpevolizza ma nello stesso tempo si tenta di produrre il cambiamento cioè un recupero del proprio ruolo genitoriale questo confine è estremamente labile e non è facile da raggiungere questo è il grande cambiamento è il primo grande cambiamento cioè nella fase separativa è un po' come se tutte le energie e tutte le risorse venissero riassorbite su se stessi da parte degli adulti è come se ci fosse una vasca alla quale viene tolto il tappo per cui si perde tutta l'acqua e il bambino il figlio rimane per un po' di tempo dentro questa vasca vuota senza nutrimento in realtà se noi poi andiamo a pensarci meglio questo tipo di esperienza ha una valenza ha un valore ha un significato ha un peso molto limitato poi nell'ambito dei minori perché noi sappiamo che chi non ha memoria non ha futuro cioè noi sappiamo che se la relazione funzionava prima non è certo una fase emergenziale un picco di crisi che poi può determinare la rottura degli elementi di rapporto il vero problema è che spesso questo bambino rimane simbolicamente in una vasca senza acqua ma è già abituato da anni a stare in una vasca con poca acqua cioè non è che noi poi scopriamo le inadeguatezze genitoriali perché i genitori si sono separati è che la separazione come elemento di emergenza fa venire fuori in modo ancora più clamoroso comunque i limiti che c'erano nelle relazioni tra genitori e figli e soprattutto il significato limitato che i figli potevano dare al rapporto con i genitori come vedete sto andando un po' a ruota libera perché mi sono liberato di quei fogli storici che sono un po' pesantini nell'ambito delle consulenze tecniche io credo che gli aspetti di cambiamento che possiamo che riusciamo a osservare di più delle modalità di relazione familiare è proprio quella del è come se fosse sostituita dice un collega spesso come se si sostituisse la fotografia oggi voi sapete che c'è Photoshop che è un programma sul computer che trasforma e che consente di fare dei trucchi fotografici e c'è questo collega uno psichiatra che dice sempre spesso in questo caso si è sostituita la fotografia cioè è come se in qualche modo ci si presentasse davanti alla consulenza quindi in un contesto valutativo osservativo non dimentichiamoci che la consulenza è molto diversa dalla consultazione psicologica quindi evidentemente c'è un mandato bisogna dare delle risposte bisogna rispostare ai quesiti e le parti che vi partecipano ne sono consapevoli c'è problema legato al segreto professionale c'è una serie di ambivalenze dentro di contraddizioni ma la coppia sa che viene lì e che in qualche modo non si lavora primariamente per loro ma che si lavora perché c'è da rispondere a un mandato e a dei quesiti e in questo contesto spesso noi troviamo delle persone che si meravigliano e si comportano come se gli avessero truccato la fotografia di matrimonio con photoshop cioè dicono io non lo riconosco più io non la riconosco più e questo è un altro aspetto del cambiamento legato alla vicenda separativa cioè la impossibilità difficoltà di riconoscimento reciproco che non è attenzione un delirio cioè non è un'assenza patologica non ti riconosco più è una realtà io non ti riconosco più nel senso che è una rottura di un rapporto idealizzato e quindi non essendo più un rapporto idealizzato il soggetto ideale mi si trasforma davanti non so se è chiaro non è chiaro? l'altro aspetto che emerge purtroppo invece spesso in CTU è quello del ne è stato parlato prima in qualche modo dell'utilizzo della prole no? a fini ad altri fini io ribadisco questo concetto che non è buonista non vuole essere politicamente corretto ma è proprio direi legato anche a fattori una lettura clinica l'emergenza l'emergenza che porta all'autoreferenzialità scardina i parametri anche chi fino a ieri è stato un genitore accettivo tutelante affettivamente supportante tutto quello che vogliamo in una condizione emergenziale può veramente perdere i propri punti di riferimento il problema quindi non è tanto quello di dare un giudizio ma è quello di attivare delle capacità predittive e questo è ancora peggio per capire se questa deformazione se questo cambiamento se questa trasformazione è reversibile o meno cioè se questo genitore che di fronte all'emergenza vede saltare i propri parametri che dettano i rapporti con la prole può o meno recuperare dignità genitoriale ho l'onore qualcuno mi ha anche insultato di essere uno dei primi che ha criticato la pass pubblicamente e fu insultato non ho ricevuto lettere minatorie ma insomma sono stato pesantemente insultato per questo fatto io sono contrario alla definizione non alla definizione nessun contrario all'uso della pass del concetto di alienazione parentale come diagnosi clinica però condivido il fatto che ci siano delle situazioni in cui si configura una vera e propria alienazione parentale ma anche qui il vero problema è discriminare se siamo in una condizione di cronicità o se siamo in una crisi acuta non so se è chiaro altrimenti noi rischiamo di se non cerchiamo di attivare questa capacità predittiva che naturalmente non è legata come ha detto l'altro giorno forse l'ex non so presidente consiglio non è legata alla provvidenza ma è legata e neanche a Renzi ma è legata alla professionalità alla capacità agli strumenti che uno ha il vero problema quindi è capire se esiste una reversibilità e se c'è questa reversibilità e c'è stato un buon impianto relazionale precedentemente genitori e figlio capire se ci sono degli strumenti che possono rivitalizzare questo impianto relazionale positivo altro aspetto di cambiamento come vedete vado ho finito quindi sono contenti altro aspetto importante è quello del cambiamento inteso come strumenti a disposizione prima si è parlato molto della mediazione familiare io non sono un mediatore familiare ma ho fatto il corso di mediazione familiare presso l'associazione egea genitori ancora a milano l'ho fatto semplicemente perché mi interessava allora ero giudice onorario in camera di consiglio ogni due per tre qualcuno diceva dobbiamo mandare l'immediazione e io dicevo ma cosa vuol dire che cos'è la mediazione familiare e si si no dobbiamo mandare l'immediazione qualcuno prima l'ha detto la mediazione come contenitore di tutto confusa un po' con la contrattazione col compromesso confusa un po' come un vice avvocatariato perché poi c'è qualcuno che dice che la mediazione deve discutere anche dei soldi allora ho detto andiamo a vedere e ho partecipato al corso di mediazione mi è servito molto perché mi sono reso conto che la mediazione invece la mediazione familiare è uno strumento assolutamente raffinato che ha delle proprie dei propri strumenti interni di attivazione purché venga rispettato il mandato io concordo pienamente con l'avvocato quando dice che so che non è così per tutti i mediatori per tutte le scuole di mediazione ma io sono pienamente d'accordo sul fatto che la mediazione familiare debba essere una scelta non può essere una prescrizione ma perché perché uno degli aspetti che si possono utilizzare sto ragionando a voce alta uno degli aspetti che si possono utilizzare in CTO per sollecitare le parti di fronte a una conflittualità e a polemica assolutamente che poi io dico sempre se si riascoltassero se ci fosse una registrazione io non registro ma se ci fosse una registrazione se si ascoltassero penserebbero di essere su scherzi a parte a volte no? L'aspetto fondamentale della CTU è che queste persone questo io dico sono pronte in virtù di una sofferenza che porta al conflitto a uscire dalla responsabilità genitoriale io dico dalla responsabilità cioè arrivano addirittura a delegare scelte fondamentali della loro vita che è chi sta con il padre chi sta con la madre quanto tempo posso vedere mio figlio se ci posso stare ad estate eccetera eccetera a terzi ai quali dei miei figli non gliene può frega nemmeno nel senso che io ho una grande partecipazione emotiva però poi il giudice l'avvocato lo psicologo il CTU chiudono il fascicolo vanno a casa c'hanno i loro figli le loro mogli se non sono separati naturalmente ma c'hanno i figli le mogli eccetera allora io credo che proprio a differenza di quello che capita la mediazione familiare al di là del fatto che è uno strumento mi ricordo c'era un'immagine bellissima che mi hanno dato il primo giorno di corso erano i tempi in cui forse erano appena passati i tempi in cui c'era stata la guerra in Serbia in Croata nella ex Jugoslavia ed era la foto di questo ponte mi sembra di Mostar un paese del genere ecco che aveva buttato giù questo ponte si era questo paese che aveva da una parte c'erano mi sembra i serbi e dall'altra i croati vado un po' a ricordare interrompendo questo ponte si era interrotta la comunicazione tra queste due parti della stessa città che fino a un po' prima della guerra comunque convivevano stavano insieme collaboravano ecco l'idea che mi era stata data come primo incontro era che la mediazione familiare rispetto a simbolicamente questo ponte potesse essere un'impresa idile un'impresa che cercava di ricostruire questo ponte senza andare a dire a destra o a sinistra del ponte adesso dovete incontrarvi dovete no costruiva il ponte riapriva le comunicazioni l'unica cosa che poteva fare il mediatore era quello di aiutare la coppia a indirizzare esclusivamente il confronto sull'interesse dei bambini perché qual è il rischio no in una prima seduta di mediazione sì però tu l'anno scorso non hai fatto tu due anni fa no fermi tutti al mediatore questo non c'entra niente con la contrattualità non c'entra niente col compromesso cioè lascia recuperare i che non che la dignità ad ognuno delle parti concentrando la loro attenzione sull'interesse e sui bisogni dei bambini questo è la grande il grande cambiamento io credo qui in Italia perché poi in Francia si usava già molti anni fa eccetera cioè mentre l'ingresso nell'area giudiziaria io aggiungo forse qualche collega non è d'accordo nell'area clinica cioè la psicoterapia di coppia in qualche modo è un tentativo di delegare la responsabilità a terzi la mediazione familiare è lo strumento che consente di riappropriarsi della responsabilità nei confronti dei figli questo è un elemento molto importante perché ci consente di spostare l'obiettivo cioè prima abbiamo detto attenzione la separazione il dolore l'emergenza produce autoreferenzialità ognuno pensa a sé è Dio è Dio per tutti la mediazione come riapertura di comunicazione concentrato su interesse dei figli sposta di nuovo l'obiettivo perché dico di nuovo perché probabilmente prima dell'esperienza emergenziale i figli erano comunque l'obiettivo prioritario a cui dare attenzione e qui come veniva sottolineato anche dalla dottoressa Dorazzi viene fuori un aspetto fondamentale che è quello del tempo la dottoressa Dorazzi diceva a me va bene questo rito perché è rapido beh il ritmo rapido non è una roba poi certo l'avvocato ci spiega attenzione ci sono dei rischi ci sono delle cose che non funzionano ma i tempi dei bambini non sono i tempi degli adulti un bambino che vive in una situazione di conflitto una situazione di indefinitezza è un bambino potenzialmente a grave rischio evolutivo se vive dentro nel conflitto e dentro nell'indefinitezza allora i tempi sono molto importanti e ancora una volta noi cosa abbiamo che abbiamo che la magistratura ha i suoi tempi la clinica ha i suoi tempi la mediazione ha dei tempi definiti e che sono più vicini a un'attenzione nei confronti dei bambini aggiungo prima si parlava un po' dei servizi sociali io sono più aperto dell'avvocato ma anche i servizi sociali hanno dei tempi e spesso quindi che non corrispondono per di più i servizi sociali hanno molto spesso un vincolo enorme e che per motivi istituzionali hanno una funzione prescrittiva perché laddove hanno una deliga da parte del magistrato il servizio di fatto è incaricato di tutelare questo nucleo familiare da se stesso e per poterlo fare in difficoltà con i tempi deve necessariamente essere prescrittivo per cui i servizi sociali lavorano in prescrizione la psicoterapia andando a ricercare le motivazioni le cause i dolori eccetera riacutizza sicuramente in certe fasi il conflitto la mediazione familiare a un tempo predefinito che è votato prevalentemente a aprire la comunicazione e trovare delle soluzioni è semplice è semplice ma funziona cioè non è detto che le cose semplici siano semplicistiche è semplice e funziona o perlomeno può funzionare sono stato abbastanza confuso ma vi assicuro ho tagliato tutti i passaggi del mio intervento volevo finire con una frase molto molto seria che riguarda l'attenzione ai figli e l'attenzione alle creature ai bambini eccetera di Phyllis Diller che è una non tutti la conoscono è una famosa attrice americana che faceva sempre la nonna nei film la vecchietta nei film è morta nel 2012 che in un momento di grande sincerità ha detto siate sempre molto gentili con i vostri figli perché saranno loro che un giorno sceglieranno la vostra casa di riposo grazie dottore veramente del suo intervento c'è qualcuno che ha delle domande oppure possiamo salutarci al prossimo incontro formativo bene alla prossima allora vediamo se li avete grazie